Davide è un relatore appassionato e molto chiaro, laureato in fisica con un dottorato in fisica, esperto di evoluzione stellare, il suo argomento preferito e anche esperto appunto è un ricercatore, prima di tutto all'osservatorio astronomico della regione autonoma della Valle d'Aosta, l'OAVDA, ente di ricerca e di divulgazione scientifica, amico anche delle nostre associazioni con cui ci pregiamo di collaborare per attività divulgative come questa. Davide è anche esperto, ha fatto ricerca nel campo dei pianeti extrasolari, sempre con il progetto Apache dell'OAVDA sui pianeti extrasolari, ma non vorrei rubarvi altro tempo e vorrei dirvi che sarà accompagnato in questa chiacchierata sul cielo primaverile dal nostro Luigi Pizzimenti, che è il vicepresidente dell'associazione Polaris e anche Luigi manovrerà il planetario digitale Stellarium, anche Luigi è un grande conoscitore del cielo, quindi sarà una bellissima, spero, serata per tutti. Grazie a tutti. Prego, vai Luigi. Allora, prendo un pochino il comando, come le altre volte ci dividiamo i compiti, io faccio da operatore del planetario, del cielo e invece Davide ci racconta tutte le cose che ha da dirci sul cielo della primavera. L'altra volta abbiamo fatto il cielo invernale e questa volta è passato qualche mese, è il momento di guardare il cielo primaverile. Partiamo direttamente Davide, cosa... Sì, benissimo. Intanto buonasera a tutti, saluto i miei amici genovesi, savonesi, liguri e non solo naturalmente. Sono, come diceva prima Alessandra, un grande amico, diciamo, delle vostre associazioni, diciamo, del Museo di Genova, della Liguria in generale, che è una regione dove cerco di venire appena posso, insomma, perché mi piace molto, insomma, io mi trovo appunto, come diceva Alessandra, in Valle d'Aosta, dove vivo e lavoro all'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta. E allora adesso io, diciamo, con Luigi, diciamo, c'è un ottimo affiatamento perché abbiamo già fatto, appunto, un'altra diretta, così, quindi, diciamo, lavoreremo insieme, appunto, per cercare di mostrare un po' il cielo primaverile, dopo aver lasciato, appunto, quello invernale. Lasciamo quindi il cielo più ricco di stelle, brillanti e più spettacolare, forse, rispetto a qualsiasi altra stagione che quello invernale, per tuffarci, invece, in quello più povero di stelle, rispetto a tutte le altre stagioni, quello primaverile, ma questo non significa che non sia ricco, a sua volta di oggetti interessanti. Quando, in effetti, ci dirigiamo verso il cielo primaverile, notiamo proprio questa differenza, che dalla ricchezza del cielo invernale passiamo a un cielo più povero e la ragione, ce la spiega un pochino questa immagine, ci allontaniamo dalla Via Lattea. La Via Lattea, come sappiamo, è la nostra galassia vista dall'interno, è il, diciamo, il disco della nostra galassia che è visto dall'interno, del quale noi ci troviamo, ci appare come un cerchio che ci circonda, perché guardando tutte le direzioni sul piano della galassia, noi vediamo moltissime stelle, vediamo appunto la galassia dove ha il suo massimo spessore. La nostra galassia è grandissima, ha un diametro di centomila anni luce, circa, anche se misure recenti l'hanno in realtà portato a duecentomila anni luce, la cosa è un po' dibattuta, è comunque chiaro che noi guardando sul piano della galassia vediamo moltissime stelle, non riusciamo a guardare così lontano, riusciamo a arrivare a qualche migliaio di anni luce, in qualche caso anche parecchi, ma riusciamo a vedere fino dall'altra parte naturalmente, perché ci sono nubi di polveri sul piano, però vediamo molte stelle. Se però ci allontaniamo da queste direzioni, immaginiamo proprio il piano della galassia come un disco e guardiamo perpendicolarmente rispetto a questo piano, quindi non sul piano, e ci spostiamo di 90 gradi, come sta facendo adesso Luigi, ci addentriamo in zone del cielo che sono molto discoste, e il cielo primaverile ci mostra proprio questo. Quando noi guardiamo verso il cielo tipico di questa stagione, stiamo guardando in direzioni lontane dal piano della galassia, che è tracciato in cielo dalla Via Lattea, e fino a perpendicolarmente a questo piano. La perpendicolare si trova nella costellazione piccola e non molto appariscente della chioma di Berenice, che è inserita, diciamo, fra costellazioni più importanti, meglio visibili, insomma, di cui parleremo tra poco, che sono il Leone e Boote, ma lì dove c'è la chioma stiamo, diciamo, stiamo guardando in direzione del polo nord galattico, e quindi chiaramente qui lo spessore della galassia è minimo, perché guardiamo in maniera perpendicolare rispetto al piano e quindi vediamo molte meno stelle. Lo spessore di soli 1000-2000 anni luce, quindi guardiamo questa zona relativamente povera di stelle, anche se ce ne sono alcune brillanti, in particolare ci sono quattro costellazioni, cui vorrei parlare, insomma, questa sera, sono le quattro più, diciamo, grandi e meglio visibili del cielo primaverile, che sono il Leone, l'orsa maggiore, che è parzialmente circumpolare, quindi parzialmente sempre visibile, ma meglio visibile in primavera, e poi i Boote, con la stella più brillante del cielo primaverile e dell'emisfero boreale, che è Arturo, e poi la Vergine. Quindi queste sono le quattro grandi costellazioni primaverili, e poi Luigi partirei sicuramente con Leone a questo punto, che è la prima, ognuna di loro ha qualcosa di interessante, anzi, diciamo, molte cose interessanti, e io cercherò di mettere in luce per ognuna di queste costellazioni qualche aspetto più o meno caratteristico, che sia più scientifico, anche più storico, mitologico, insomma, quindi terremo sempre presenti i due piani. Allora, diciamo che la costellazione del Leone è facile da riconoscere, se guardiamo adesso, diciamo, adesso magari quando ho finito di parlare, diciamo così, comunque intorno alla serata, in questa stagione verso sud, quindi più o meno tra le nove, le dieci, dieci e mezza, guardiamo verso sud, molto alta, quindi non proprio lo zenith, insomma, ma a 60-70 gradi di altezza, non lontana dallo zenith, vediamo questo bel trapezio di stelle, abbastanza brillanti, soprattutto Regolo, che come vedete è anche qua indicata come la più brillante, e è un trapezio con altre stelline vicine che vuole così delineare un po' il corpo del Leone. Il Leone è una che noi vediamo in cielo, ci deriva dalla cultura greca, il Leone Nemeo, che fu ucciso da Ercole, che aveva una pelle invulnerabile, secondo la mitologia greca, che Ercole uccise a mani nude, in realtà è molto più antica, questa costellazione era già un Leone nella cultura babilonese, quindi in epoche molto, molto, anche molto precedenti alla civiltà greca. E come tutte le costellazioni, diciamo, con poche eccezioni, è una pura apparenza prospettica. Le stelle che noi vediamo vicine in cielo, in realtà vicine non lo sono normalmente, sono una davanti, una dietro, noi non percepiamo ovviamente la profondità in cielo e non ce ne rendiamo conto. Il Leone si presta molto bene a vedere questa cosa perché le quattro stelle del trapezio sono appunto a distanze diverse e la più vicina a noi è Denebola, che è quella che vediamo appunto sulla sinistra. Denebola, tra l'altro, è un nome di origine araba che significa la coda e ci sono diverse stelle che portano questo nome. Denebola vuol dire la piccola coda, diciamo, è un po' un ibrido arabo latino, ma c'è la famosa Deneb del Cigno, Deneb al Gedi, Deneb kaitos, code di altrettanti animali immaginari presenti in cielo. Denebola è una stella che dista circa 35 anni luce da noi, quindi diciamo relativamente non molto lontana e fra le quattro la più vicina. La seconda è Zosma, che è quella che vedete lì sopra, che noi invece ne dista 58, quindi un po' più lontana. Entrambe queste stelle sono due stelle diciamo un po' più grandi e calde del Sole, ma non moltissimo, sono entrambe stelle nane come il Sole, un pochino più grandi, una volta e mezzo, più o meno più grandi, tra una volta e mezzo e due, e un po' più calde, sono stelle di classe A, il Sole di classe G vuol dire che in realtà sono un po' più bianco-azzurre, con temperature superficiali un po' più elevate rispetto al Sole, e una quindicina di volte più brillanti. Sono abbastanza simili a Sirio come stelle, un po' meno brillanti, ma soprattutto più lontane, nettamente appaiono per questo molto più deboli, ma la categoria di stella è quella diciamo. Poi c'è Regolo. Regolo è la stella più brillante del Leone ed è la ventunesima più brillante del cielo. Quindi è brillante, ma non ultraluminosa, ma però anche questa è una stella cospicua, da una distanza di circa 79 anni luce, 79-80 anni luce, questa è una nana, come anche il Sole appunto è quella che abbiamo visto finora, ma una nana grande, è bello usare questo simolo, una nana grande, cosa che sembra che non abbia senso, ma è una nana tra le più cospicua, perché è circa tra le tre e le quattro volte più grande del Sole, quindi insomma come nana è piuttosto significativa ed è molto più calda e brillante. Considerando questa stella è una stella sui 13-14 mila gradi come temperatura superficiale, una stella azzurrina, è un bel esempio, al telescopio si vede bene il colore azzurro ed è quindi nettamente più luminosa del Sole. Se si considera anche l'ultravioletto in cui prevalentemente emettono le stelle calde circa 350 volte più del Sole. E questo nome è anche regolo, è interessante perché è il nome ufficiale Regulus, vuol dire il piccolo re, un nome latino questa volta, e questa stella ha, diciamo, anche se questo nome è stato dato poche centinaia di anni fa, ha degli attributi regali fin dall'antichità questa stella. I babilonesi la chiamavano charru, il potente, i greci basiliscos, appunto il re, eccetera. Probabilmente perché è fra le stelle brillanti, è più vicina l'eclittica, cioè il Sole praticamente le passa davanti. Adesso questo succede in agosto, in passato succedeva per la precessione degli equinozi in altri periodi, ma è avvicinata spesso anche dai pianeti, sembra quasi radunare a sé questi corpi vaganti che spesso le passano vicino e questo, diciamo, forse è l'origine dei suoi attributi regali, insomma, quindi c'è un po' molta storia anche su queste stelle. E poi c'è Algeba, Algeba è la più lontana, è di dire 4, è a 126 anni luce, è una stella doppia, e sono due giganti stavolta, due giganti di colore giallo-arancione, la principale è un tipo spettrale K, K0, cioè una stella, diciamo, di colore arancione, più fredda del Sole, ma nettamente più grande, circa 30 volte più grande, e oltre 300 volte più brillante. È interessante perché questa stella ha anche un pianeta extrasolare scoperto, uno dei pochi, non più pochissimi in realtà, scoperti in sistemi doppi, dove non si sapeva se potessero esistere i pianeti, ma si è scoperto che orbite stabili esistono. Il problema dei pianeti nei sistemi doppi è che un pianeta che orbita intorno a una stella, ma se c'è un'altra stella nei paraggi, insomma, se il pianeta si mette in competizione con un'altra stella è spacciato, no? Non tutte le orbite, infatti, sono stabili, ma in alcune lo sono e abbiamo un pianeta che gira intorno a questa stella e un'altra molto più lontana, che quindi non dà fastidio al pianeta, che anch'essa orbita intorno al centro di massa con questa stella. Quindi, stando su questo pianeta, si vedrebbero due soli, uno, la stella principale, apparirebbe ben 250 volte più brillante del nostro Sole, in cielo, quindi superluminoso, il pianeta chiaramente non è abitabile in nessun modo, e invece l'altra stella apparirebbe, diciamo, più lontana, una luminosità intermedia fra il Sole e la Luna, diciamo, visto nel nostro cielo. Però quello che è straordinario del Leone è, secondo me, un'altra cosa. C'è nel Leone una stella che si chiama Roleonis. Che stella è? Allora, se partiamo da regolo e ci spostiamo un po' in basso a sinistra, un pochino, andiamo giù un pochino, quella lì, la prima è abbastanza luminosa che troviamo, e questa stella è una stella straordinaria, perché dista, non si sa esattamente, ci sono varie misure, ma probabilmente 5.300 anni luce. Quindi, finora abbiamo parlato di stelle fino a 126 anni luce al Geba, questa è enormemente più lontana, e si vede bene a occhio nudo, quindi vuol dire che è una stella superluminosa. Infatti, in questo caso, siamo in presenza di una supergigante, che è circa 5.000, scusate, 500.000 volte più luminosa del Sole, circa mezzo milione di soli come luminosità, di colore intensamente blu, è probabilmente una classe B0, quindi una stella estremamente calda, e se consideriamo la classe spettrale, una supergigante, la luminosità circa mezzo milione di soli, somiglia molto alle stelle della cintura di Orione, molto simile alle tre stelle della cintura di Orione come tipologia, ma è molto più lontana, infatti appare nettamente più debole, ma ben visibile occhio nudo comunque, ma cos'è straordinario di questa stella? Proviamo a riflettere un attimo su una cosa. Ci sono diverse stelle visibili occhio nudo che distano 3, 4, 6.000 anni luce, pensate a, per esempio, a Rodi Cassiopea, a Rod Cassiopeia dista 3.400 anni luce, ok? Mucefei, nella costellazione di Cefeo, probabilmente tra i 3 e i 5.000 varie stime, o forse anche 2.000, secondo alcune recenti, comunque molto lontana. Pensiamo ad Alpha Camelopardalis, nella costellazione della giraffa, 6.000 anni luce, ma tutte queste stelle sono lungo la Via Lattea o in prossimità. Pensate, Cassiopea, Cefeo sono lungo la Via Lattea. La giraffa non proprio, ma non è lontana dalla Via Lattea. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono stelle lontane sul piano della galassia, dove non ci stupisce di vedere anche stelle lontane, perché la galassia è enorme. Ma qui stiamo guardando una stella che ha 5.300 anni luce, in direzione quasi perpendicolare al piano della galassia. Ma se il piano della galassia è spesso 1.000 anni luce, 2.000, vuol dire che questa stella è fuori dalla galassia, o almeno dal disco della galassia. È nel disco spesso o nell'alone, ma è fuori dal piano della galassia. È un rarissimo esempio di stella visibile occhio nudo che non è sul piano della nostra galassia. Quindi se noi fossimo nelle prossimità di Roleonis, cosa vedremmo? Vedremo il piano della galassia dal di fuori. E se ci pensate, 5.000 anni luce non sono pochi. Anche rispetto alla distanza fra noi e il centro della galassia, che è 27.000 anni luce, vuol dire che si vedrebbe in proiettiva e spirale quelli vicini e discosto il centro della galassia, se ci fosse un pianeta o qualcuno, insomma, intorno a questa stella, che quindi in un certo senso, tra le stelle visibili occhio nudo, è abbastanza unica, perché ha questa caratteristica. E stando su un ipotetico pianeta, a distanza di sicurezza, perché questa stella è luminosissima, avremmo da un lato la galassia con il suo disco, che occuperebbe metà del cielo, e dall'altra parte avremo il buio completo dello spazio intergalattico. Se non proprio completo, perché siamo comunque nell'alone galattico, qualche stellina ci sarà, però avremo un tipo di notte completamente diverso dalla nostra notte, quindi avremo metà cielo pieno di stelle, l'altra metà quasi completamente vuoto, un tipo di notte che non somiglierebbe a nulla che noi possiamo vedere da terra. E queste, ecco, queste stelline un po' particolari, che hanno appunto, che magari alla vista sono, non attirano l'attenzione, ma che hanno qualcosa di straordinario, io devo dire, ecco, veramente un debole per queste stelle, quindi mi è piaciuto molto parlarvi di questa Roleonis, nell'approfondimento che riguarda il leone. Poi passerei ad altre costellazioni e vediamo magari che cosa di caratteristico, qualcosa di caratteristico anche che riguarda qualcuna delle altre. Cosa dici Luigi? Va bene, direi, abbiamo notato Roleonis, adesso sappiamo come individuarla, come riconoscerla, ce lo teniamo presente per la prossima volta che osserviamo il cielo e a questo punto facciamo il salto su un'altra costellazione. Benissimo. Allora io passerei a questo punto magari all'orsa maggiore, poi facciamo una specie di giro verso Boote e poi verso la Vergine e poi ce ne sono anche altre, vediamo se ci daremo anche tempo di andare un pochino più in dettaglio anche poi su qualcun'altra, un po' meno appariscente. Dunque, venendo all'orsa maggiore, l'orsa maggiore intanto è una costellazione molto grande, è la terza più grande del cielo, dopo l'Idra e la Vergine, che sono altre due costellazioni che si vedono bene proprio adesso e di cui parliamo più tardi. La sua parte più cospicua è il Grande Carro, ma la costellazione in realtà è molto più grande e dell'orsa maggiore possiamo dire che almeno per quanto riguarda le sette stelle del Grande Carro, cinque di esse, cioè tutte tranne Dube e Al-Qaid, che sono la prima e l'ultima, sono tutte stelle circa la stessa distanza da noi, quindi uno di quei casi che contraddice quanto dicevo prima e cioè che stelle che noi vediamo vicino in cielo appartenenti a una stessa costellazione normalmente non hanno nessun legame le une con le altre. Invece in questo caso queste cinque stelle che sono appunto Merak, come vediamo, Fechda, poi a sinistra di Fechda quella più debole, qui il nome non è scritto mai, Magrez, poi ci sono Aliot e Mizar. Queste cinque stelle sono tutte a un'ottantina di anni luce da noi, sono tutte in moto nello spazio, nella stessa direzione con la stessa velocità, cioè condividono quello che è il moto proprio in cielo e sono tutte simili. Sono tutte stelle nane abbastanza simili a Denebola e Zosma e anche a Sirio, tutte stelle nane di classe A, grandi da una volta e mezzo a quattro volte del sole. Magrez, che è quella senza nome, diciamo, scritto, eccola lì. Adesso lo vediamo. Adesso lo vediamo, l'abbiamo illuminata e lo vediamo bene. Ecco, questa stella è 1,4 volte il sole come diametro, invece la più grande è Aliot, che è quattro volte più grande del sole e la luminosità di Aliot è cento volte il sole, le altre invece qualche decina. Quindi sono tutte stelle nane, un po' più grandi e cospicue del sole, ma hanno qualcosa in comune, sono simili, stesso moto, stessa distanza. Chiaramente sono membri di un'associazione, di un ammasso in disfacimento, un gruppo di stelle nate assieme che si stanno allontanando nello spazio. Tra l'altro di questo ammasso, di questa associazione, ormai non lo chiamiamo più ammasso, fanno parte anche stelle che sono un po' più lontane. Per esempio, nella costellazione della Corona Boreale, che magari guardiamo anche un attimo dopo, la stella più luminosa, che si chiama Gemma, è molto probabilmente un membro che è molto simile, 75 anni luce di distanza, una nana di classe A, esattamente come loro, è molto probabilmente membro dell'associazione. Un altro esempio è Men Kalima, nell'Auriga, altra stella del tutto simile. Quindi alcune si sono già sparpagliate un po' di più e sono finite un po' in trasferta, diciamo, in altre costellazioni di questo gruppo di stelle e queste associazioni di sfacimento. Dube e Al-Qaeda invece sono più lontane. Al-Qaeda ha un centinaio di anni luce e Dube ha circa 130 e sono stelle diverse anche. Al-Qaeda è una nana, ma di classe B più grande e brillante, somiglia a Regolo. È circa 3-4 volte più grande del Sole, di classe B. A volte si nota che stelle di costellazione diverse si somigliano, magari una più vicina, una più lontana, hanno luminosità diverse, mentre Dube somiglia ad Al-Qaeda, sempre del Leone, è una gigante di classe K. Quindi una ventina di volte più grande del Sole e circa 250-300 volte più brillante, di un bel colore arancione. Ed è una stella quindi più evoluta, che sta come Al-Qaeda, che ha esaurito la fase di fusione dell'idrogeno e probabilmente queste stelle giganti di classe K sono stelle che stanno fondendo l'elio in carbonio e ossigeno. Cioè hanno già attraversato la fase di gigante rossa e poi, dopo l'accensione della fusione dell'elio, si sono portate su quello che si chiama zona di clamp del diagramma HR, cioè sulla parte sinistra del ramo delle giganti, dove le stelle fondono l'idrogeno e l'elio, scusate, in carbonio e ossigeno, cosa che farà anche il nostro Sole in un futuro lontano. Dico probabilmente perché non si può escludere che siano ancora invece nella fase in cui stanno risalendo il ramo dei giganti. È difficile distinguere dopo la fase di sequenza principale se una stella di massa media, queste sono stelle di massa solare, hanno una volta la massa del Sole, una volta e mezzo, quindi anche il Sole farà una cosa simile. Attraverseranno due volte questa fase, sia mentre si evolvono in giganti rosse che dopo l'accensione della fusione dell'elio, quando tornano un po' indietro sul diagramma e assumono caratteristiche appunto di gigante arancione. È difficile, probabilmente siamo nella seconda fase, ma la cosa può essere anche un po' biglia. Oltre a questi aspetti un po' più astrofisici, a me piacciono moltissimo quelli storici, mitologici, quindi mi dedicherò qualche minuto anche a questi. Tra poco magari racconto il mito greco, quello che lega l'Orsa Maggiore anche alla vicina costellazione di Boote, ma prima volevo notare una cosa interessante che è questa. Il Grande Carro, in cui è stato visto di tutto da culture diverse ovviamente, dal trono dell'imperatore dei cinesi alla Ratro nella cultura anglosassone, oppure diciamo il Mestolo, il Big Dipper, il Grande Mestolo, in culture anche lontane fra di loro, curiosamente era un orso inseguito da tre cacciatori. Cioè l'orso sarebbero le quattro stelle, appunto Dube, Merak, Fechda e diciamo l'innominata Magrez, e i tre cacciatori sono le tre stelle che formano, ecco ora lì. Ecco, ingrandendo un po', abbiamo dato la dignità di nome anche a Magrez. Perfetto. E i tre cacciatori sono le tre stelle dietro. La, diciamo, evidentemente l'idea deriva dal fatto che a causa della rotazione terrestre, se diciamo il movimento apparente in cielo del Grande Carlo, se lo vediamo così, si muove verso sinistra, cioè la parte davanti sembra scappare, quella a sinistra sembra scappare, i tre cacciatori cosiddetti sembrano inseguire il nostro orso, che sono appunto le quattro stelle più grandi. C'è anche una versione alternativa per cui in realtà sarebbe un orso seguito dai suoi tre cuccioli, in un'altra, diciamo, in un'altra leggenda. Però è curioso che questa idea dell'orso ricorre anche in culture non legate, per esempio ricorre ad alcune culture native americane e anche nord-europee, dove probabilmente, certamente non c'è stata nessuna comunicazione, diciamo, visto che sono culture che si sono separate, moltissimo, gli uomini hanno colonizzato l'America molto tempo prima, diciamo, di queste culture. Una bella leggenda che risale ai nativi americani dice anche questo, dice che i cacciatori inseguono l'orso, continuano a inseguirlo, continuano a inseguirlo finché, da autunno, cosa succede? Il grande Carlo è altissimo in cielo in primavera, se guardiamo adesso ce l'abbiamo quasi sopra la nostra testa, in serata, adesso fra un'ora o due, insomma, un po' più tardi in serata. In autunno, invece, pur rimanendo visibile, si trova in basso, diciamo, sotto la stella polare a sfiorare l'orizzonte, e la stagione è meno favorevole per guardarla. E questa leggenda dei nativi americani ci dice che in autunno finalmente i cacciatori, dopo aver braccato l'orso, riescono a raggiungerlo e lo colpiscono con le loro lance, l'orso insanguinato perde sangue, il sangue si riversa sulla terra e fa diventare rossi gli alberi. E quindi l'idea del rosseggiare degli alberi in autunno non sarebbe altro che, ecco come ci sta mostrando Luigi, questo è come lo si vede d'autunno, vedete che sfiora l'orizzonte, e quando lo sfiora, ecco che viene preso dai cacciatori, viene ferito, ucciso, e il sangue dell'orso si riversa sulla terra e rende rossi i boschi. Quindi è un interessante modo di mettere in relazione i fenomeni celesti e quelli terrestri in maniera molto fantasiosa, ma sempre anche molto poetica, come è tipico di questi antichi racconti. Poi, venendo invece alla cultura più vicina alla nostra, alla mitologia greca, io racconterei a questo punto magari anche il mito di Arcade e Callisto, così introduciamo anche Botte. Visto che da qui a poco tempo il Botte, se si vede bene e brilla con Arturo, molti di quelli che ci stanno seguendo saranno poi incuriositi anche da questa collestellazione. Perfetto, allora, il mito greco che riguarda l'orsa ci racconta una storia diversa, che è questa. Si racconta che una volta esisteva una fanciulla bellissima, come tutte le fanciulle dei miti e delle leggende, che si chiamava Callisto. E la nostra Callisto era una seguace, una sacerdotessa di Artemide, la dea della caccia, e andava a caccia con lei, ma come tutte le seguace di Artemide aveva dovuto fare un voto di castità. La dea desiderava che le sue seguaci stessero sempre con lei a caccia e non perdessero tempo, per così dire, con relazioni sentimentali, ma era così bella che Zeus, diciamo, la cosa non passò osservata a Zeus, il re degli dèi, che si palesò la nostra Callisto e la sedusse. La povera Callisto, insomma, non avrebbe dovuto, diciamo, cedere, ma come si fa a dire di no al re degli dèi, insomma, d'altronde. E da questa relazione nacque un figlio, Arcas, in italiano possiamo chiamare Arcade. Artemide, avvistasi della cosa, dopo la nascita di Arcade, decise di punire Callisto. In realtà forse avrebbe potuto prendersela anche con Zeus, no? Che era forse, diciamo, il principale, diciamo, responsabile del fatto, ma insomma, come si fa? Non può mica prendersela con Zeus, nemmeno se si è un dio o una dea. Allora se la prende con la nostra Callisto e per punirla, lei che era stata una fanciulla bellissima, la trasforma in un'orsa. Quindi un animale goffo, non particolarmente aggraziato, ma lasciandole sentimenti umani, così che la nostra povera Callisto si vede, diciamo, nelle spoglie dell'orsa, rimanendo però umana nella sua mente e per la vergogna scappa nei boschi e non si fa più vedere dal consesso umano. Molti anni dopo rincontra il proprio figlio che intanto è cresciuto, è diventato un abile forte cacciatore e lo rincontra in un bosco. E come succede alle madri lo riconosce subito, anche se sono passati tantissimi anni per la gioia incontribile di correre incontro. Solo che chiaramente il nostro Arcade non ha idea che quella che gli sta correndo incontro sia la madre trasformata in un'orsa. Pensa che sia un orso che vuole aggredirlo e allora estrae una freccia, sta per colpire, ferire o uccidere la propria madre senza saperlo. A questo punto interviene Zeus che, per evitare il fattaccio, prende due personaggi e un attimo prima che venga scoccata la freccia li mette in cielo e li trasforma in due costellazioni. L'orsa maggiore, che quindi sarebbe nata in questo modo secondo la mitologia, e l'altra costellazione è invece quella di Boote. Boote è un termine di origine greca che vuol dire il bovaro, viene tradotto spesso come bifolco, pastore, e rappresenta, secondo questa, diciamo, un'interpretazione, appunto Arcade. E' la stella che è stato messo vicino alla propria madre in cielo per proteggerla da ulteriori, diciamo, vendette, disavventure celestie. Notiamo che le tre stelle della coda dell'orsa, ovvero del timone del grande carro, che abbiamo già visto in dettaglio, suggeriscono con la loro curvatura una strada che ci porta fino a Boote e soprattutto alla sua stella più brillante, che è Arturo. Arturo è la versione di italiana del nome tradizionale Arcturus, che deriva dal greco antico Arctos, che vuol dire orsa, o orso-orsa, e Ura, che vuol dire coda, la coda dell'orsa, o in senso metaforico, l'uomo che sta dietro la coda dell'orsa, il guardiano dell'orsa in cielo, che altri non è, che appunto Arcade, che fa la guardia per proteggere la propria madre nella forma di orsa in cielo. Lasciamo magari, condivido un attimo anch'io se posso, un attimo una cosa, vediamo se la cosa va a buon fine, un attimo solo, poi torniamo a sostellare, un grazie mille, volevo lasciare che a dirlo fosse meglio di quanto possa fare io, un poeta antico, allora vediamolo un attimo, ecco, vediamo Ovidio nelle metamorfosi parlando di questa storia, di Zeus, e riferendosi ad Arcade e a Callisto, disse, gli scagliò attraverso l'aria, nei turbini dei cieli più alti e l'ali fissò, dove le nuove costellazioni nascono nella notte, illustre ornamento dei cieli del nord. Questo è il resoconto, grazie mille, Luigi, possiamo tornare? Torniamo. Grazie. È il resoconto che fa Ovidio di questa leggenda, che è una, diciamo, un ennesimo a leggenda che umanizza il cielo, no? Ovviamente in cielo gli uomini hanno sempre proiettato tutti i propri sentimenti, l'amore materno, filiale, le disavventure, insomma, di ogni tipo a cui si fanno incontro gli uomini. Tra l'altro qui vediamo anche la corona boreale, di cui parlavamo prima, e la stella più brillante, la gemma, eccola lì, quella proprio che è in centro, che vedete quindi non è lontanissima dall'ossa maggiore, è molto probabilmente uno di questi membri in trasferta della costellazione dell'ossa maggiore, appunto anche lei, una nana un paio di volte più grande del sole, tre o tre volte circa più grande del sole, ha 75 anni luce, quindi torna tutto, il moto nello spazio è comune alle altre stelle dell'associazione, quindi molto probabilmente ne fa parte. Alfec è il nome arabo, mentre Gemma è il nome invece di origine latina di questa stella. Tornando ad Arturo, di Arturo come si fa a non parlare in maniera, diciamo così, Arturo è una stella magnifica, è la quarta stella più brillante del cielo, dopo Sirio, Canopo e Alfa Centauri, ma le prime tre sono tutte e tre stelle australi, dell'emisfero australe, anche se Sirio si vede, è comunque nell'emisfero celeste australe, Canopo e Alfa Centauri sono del tutto invisibili dall'Italia, troppo australi, Arturo è la quarta stella più brillante del cielo, è la prima dell'emisfero celeste boreale. È una stella davvero cospicua, si trova a 37 anni luce da noi, è anche lei una gigante arancione, quindi anche lei, come anche quella che abbiamo visto prima, Algeba e Dube, probabilmente è una stella in fase di fusione dell'elio in carbonio e ossigeno, oppure in fase di trasformazione in gigante rossa, come dicevo prima, perché questa fase viene attraversata dalle stelle di massa solare sia quando diventano giganti rosse che dopo questa fase di gigante. È comunque grande circa 25 volte più del Sole e la sua luminosità supera quella del Sole di circa 200 volte, considerando anche l'infrarosso che le stelle più fredde del Sole come queste emettono in quantità considerevole. È notevole perché è in assoluto la stella più grande e brillante entro 50 anni luce dal sistema solare. Diciamo che è il pezzo grosso del nostro quartiere galattico. Se noi immaginassimo il nostro quartiere nella galassia come una sfera centrata sul Sole di 50 anni luce di diametro, in questa sfera ci starebbero dentro un migliaio di stelle, diciamo, e di queste è Arturo in assoluto la più grande e brillante, quindi il vostro quartiere, diciamo, in cui ci troviamo noi nella galassia, per così dire. Abbastanza curiosamente la stella che notiamo subito in alto a destra rispetto ad Arturo Mufrid, che è una stella che appare in cielo di magnitudine 2,5 più o meno, quindi poco in alto a destra rispetto ad Arturo, quasi disegnata quasi grande, luminoso uguale, ma in realtà lo è molto meno, è alla stessa distanza da noi. Anche lei ha 37 anni luce, tutte e due, quindi un altro caso di stelle che appaiono vicine. È raro, ma succede, sono realmente vicine. Le due vistano, quindi sono alla stessa distanza da noi, appaiono vicine in cielo, vistano solo i tre anni luce l'una dall'altra e noi capiamo che se Arturo nel nostro cielo da 37 anni luce è così spettacolare, chissà da Mufrid, da Mufrid apparirebbe un po' più brillante che Venere nel nostro cielo, apparirebbe come di gran lunga la stella più brillante del cielo e così brillante, diciamo, da essere visibile anche di giorno occhio nudo su un ipotetico pianeta simile alla Terra. Se questo pianeta esiste, non lo sappiamo, se esistesse e fosse popolato da qualche specie di esseri alieni, intelligenti, chissà che miti hanno inventato su Arturo. Se l'abbiamo inventato noi, per loro Arturo sarà il re del cielo, non lo so, diciamo, l'epitome della grandezza celeste o qualcosa del genere, perché è chiaramente per loro una stella eccezionale nel loro cielo. È anche vero il contrario, anche da Arturo Mufrid appare luminosa, circa come giove nel nostro cielo, quindi è comunque una stella estremamente cospicua, è proprio data la vicinanza. Mufrid è una stella di tipo solare, ma un po' più grande, circa sette volte più brillante del sole, quindi un po' più grande e brillante del nostro sole, però diciamo sette volte più grande del sole, un po' più brillante, ma diciamo non molto diversa dal nostro sole, una sub-gigante, in realtà non una stella nana, come il nostro sole, ma un po' più grande e luminosa. Ok, direi che a questo punto possiamo forse proseguire verso la Vergine. Andiamo, proseguiamo il nostro percorso, proseguiamo l'arco che abbiamo iniziato dalla coda dell'orsa, siamo passati attraverso Arturo e adesso arriviamo nella Vergine. Arriviamo alla Vergine. Allora, la Vergine è la seconda costellazione più grande del cielo, dopo l'Idra e prima dell'ossa maggiore che è la terza. Allora, la Vergine contiene intanto una stella brillante, che è appunto qui indicata come Spica, e tra poco capiremo questo nome latino vuol dire Spiga, la Spiga di grano, e tra poco capiremo perché, e raffigura la stella intanto diciamo su Spica che è una stella abbastanza lontana, ha circa 250 anni luce, quindi nettamente più di Arturo, Regolo, e se scudiamo Role e Onis che abbiamo visto prima che è molto più lontana, è una tra le più lontane, forse la più lontana di quelle di cui abbiamo parlato finora, e scusa appunto Role e Onis, e ci appare piuttosto luminosa perché effettivamente è brillante, è una stella doppia in realtà, e sono due stelle entrambe di classe B, e B1 è la più brillante, B0 e B1, cioè le più calde fra le stelle B, e quindi estremamente luminosa e calda, una stella blu, è fra le stelle luminose del cielo una tra le più blu. Ce ne sono un altro paio che ce la giocano con lei, in quanto diciamo non so come dire all'essere blu, per esempio in Moda nella Croce del Sud, ma è una stella estremamente calda, o meglio due, la principale appunto, entrambe sono blu, ma la principale in particolare particolarmente calda e luminosa, circa 20.000 volte più del Sole, se consideriamo anche l'ultravioletto emesso. Sono due stelle vicinissime, così vicine che è una doppia non diciamo discernibile come tale del telescopio, ma spettroscopica, e le forze mareali fra i due componenti hanno deformato le due stelle che hanno una forma oblata, proprio perché la forza di gravità è così forte, soprattutto le forze mareali sono fortissime, quando le distanze sono contenute da avere questo sistema che orbita in pochi giorni con le stelle fortemente deformate. Sono, diciamo, una gigante e l'altra forse anche lei è una gigante o subgigante, a volte è un po' difficile classificare, soprattutto le stelle calde, a volte non è facilissimo distinguere una nana da una subgigante da una gigante, probabilmente, sono comunque stelle ormai fuori dalla sequenza principale che stanno evolvendo verso una fase di gigante rossa, che raggiungeranno in tempi relativamente brevi essendo stelle di grande massa. In generale, invece, parlando della Vergine in generale, tornando su un campo più storico e mitologico, questa costellazione rappresenta un personaggio nella mitologia greca che è Demetra. Demetra è la dea della fertilità della terra, secondo la mitologia greca, quella che poi romani avrebbero chiamato cerere, e insomma non è strano che si veda in primavera, quando la si comincia a vedere di sera, il che avviene circa in aprile, oggi, all'epoca dei greci per la percezione degli equinozi in marzo, sta arrivando la primavera. E ovviamente è chiaro che il cielo è stato usato da sempre come calendario che aiuta l'uomo a tener conto del succedersi delle stagioni, e la primavera, ovviamente, per i popoli antichi, aveva un significato estremamente importante, l'epoca in cui la terra comincia a dare frutti. Insomma, per noi la primavera è una stagione più o meno che ci piace aspettare, perché pensiamo alle vacanze di Pasqua, ai ponti vari, diciamo, dove siamo scortunati, insomma, possiamo magari andare a fare qualche vacanza. Per gli antichi era la stagione in cui stavano terminando le scorte di cibo invernale e bisognava cominciare a pensare a raccoglierne di nuovo. E quindi non è strano che questa costellazione che simboleggia la primavera avesse un significato estremamente importante per i popoli antichi, addirittura la dea della fertilità della terra. E il mito greco che la riguarda ci racconta che Demetra avesse una figlia, Persefone, bellissima naturalmente, così bella che Ade, il dio dell'oltretomba greco, si invadì di lei, l'Apilo portò nel suo regno sotterraneo. A questo punto Demetra, non trovando più la propria figlia, la cercò in cielo e in terra e alla fine, non trovandola, decise, per la rabbia e per il disdegno, di lanciare sulla terra una specie di maledizione. Lei era la dea della fertilità, decise che non sarebbe più cresciuto nulla sulla terra. La terra sarebbe diventata completamente sterica. E gli uomini cominciarono a morire di fame e allora supplicarono Zeus di fare qualcosa. Le preghiere arrivate fino all'orecchio di Zeus, smossero il dio, che sapeva benissimo cosa fosse successo, andò da Ade, che è suo fratello, chiedendogli di liberare Persefone. Però Persefone, nel regno di Ade, aveva mangiato sei semi di melograno che le erano stati offerti e le leggi del fato stabilivano che per ogni chicco di melograno mangiato nel regno di Ade non si potesse più lasciarlo per un mese all'anno. E quindi questi sei chicchi mangiati, questi sei semi chicchi, obbligavano Persefone a rimanere almeno sei mesi all'anno nel regno di Ade. Quindi fu trovato un accomodamento. Persefone avrebbe passato sei mesi con Ade e sei mesi sarebbe tornato dalla madre Demetra sulla terra. E allora Demetra decise che da quel momento la terra avrebbe dato frutto solo per sei mesi all'anno. E gli altri sei no, sarebbe inaridita quando Persefone non era più con lei. E questa, diciamo, è la spiegazione mitologica della nascita delle stagioni naturalmente e sarebbe il motivo espresso tramite un mito, quindi in forma di favola, per cui la terra dà frutti solo in primavera e in estate e poi in arridisce in autunno e in inverno. La cosiddetta bella stagione e la cosiddetta brutta stagione. Naturalmente mi sembra di percepire il piacere che molti di voi che ci state ascoltando possano provare, no? La primavera, le fioriture, i primi caldi, le giornate che si allungano e la cosiddetta è una bella stagione, no? Non posso esimermi dal dire che non condivido il vostro piacere, sono molto contento ovviamente che voi lo proviate, ma io amo l'autunno che è proprio la stagione opposta e l'inverno, l'autunno è la mia stagione preferita, quindi che che ne dicano Demetra e Persefone, io sono, diciamo, un amante dell'atmosfera crepuscolare, delle giornate corte e insomma la primavera, pur apprezzando certamente la sua bellezza, non è il mio periodo dell'anno preferito, però mi consolo, ma penso che mancano solo cinque mesi all'inizio, quindi forse neanche tantissimo. Beh, però perché tu da fine fotografo sfrutti anche i colori dell'autunno che sicuramente per le fotografie sono il massimo, ecco, forse anche per quello. Sì, poi vivendo in Valle d'Aosta ovviamente l'autunno è uno spettacolo, chiaramente i boschi si riempono di colori e devo dire, allora se dovessi dire un po' la mia scansione dell'anno ideale, cioè, diciamo, immaginando di poter proprio fare quello che voglio, io passerei l'autunno in montagna nei boschi, l'inverno al mare, perché l'inverno il mare è al top per me, ci sono queste atmosfere stupende, queste luci bellissime su queste spiagge deserte e la primavera e l'estate a lavorare tranquillamente, diciamo, questa sarebbe un pochino la mia scansione annuale ideale, ok? Io penso, forse Luigi, che valga la pena dire qualcosa anche sulle galassie, no? Che... Beh, sì, direi di sì, perché parlando della Vergine qualcuno avrà in mente qualcosa di importante, qualche tesoro che è nascosto da quelle parti. E certo, penso anch'io. Allora, abbiamo detto che la, diciamo, la primavera è relativamente povera di stelle, ma, per i motivi che abbiamo spiegato, ma questo è anche un vantaggio. È un vantaggio perché guardando in direzione in cui è minimo lo spessore del disco galattico, è minimo anche il disturbo da parte delle polveri interstellari che sono presenti sul disco. Le polveri sono molto opache alla radiazione luminosa, assorbono la luce e in direzione perpendicolare al disco, dove, diciamo, il loro effetto è minimo, si riesce più facilmente a guardare lontano, cioè fuori dalla nostra galassia, cosa impossibile da fare sul piano della Via Lattea, dove le polveri, i nubi di polveri assorbono la luce e ci impediscono di guardare addirittura le zone della nostra stessa galassia, che sono lontane da noi. Invece, nel caso del cielo primaverile, quindi, possiamo vedere fuori altre galassie. Infatti, diciamo che il cielo primaverile è la stagione dei fiori, dei tepori e delle galassie, perché ce ne sono tantissime. Tra le tante, vale la pena citare, forse, proprio quella cui alludeva Luigi, e cioè la galassia M87. Nella costellazione della Vergine si trova una galassia, è una galassia ellittica supergigante, che è un membro dominante al centro del cosiddetto Ammasso della Vergine. L'Amasso della Vergine è un gruppo di 1.000-2.000 galassie, il cui centro si trova circa 54-55 milioni di anni luce da noi, ed è dominato da questa galassia e da un'altra, dell'M84, che sono galassie, diciamo, al centro di questo ammasso così cospicuo. Notiamo che le galassie ellittiche tendono a essere più frequenti al centro degli ammassi di galassie, probabilmente nascono dalla fusione di galassie spirali e al centro degli ammassi le fusioni sono probabilmente più frequenti, ci sono in realtà molti dubbi su questo quadro, ma insomma alcune indicazioni sembrano indicare questo. Quindi questa galassia è grandissima e al suo centro si trova il famoso buco nero M87 star asterisco, che il primo è l'unico mai fotografato fino ad oggi e se ricordate un paio d'anni fa c'è stata la famosa foto nell'aprile del 2019 e nelle settimane scorse è stata diffusa una seconda foto di questo buco nero. Naturalmente qualcuno può chiedersi ma come si fa a fotografare un buco nero se è nero? Come si fa a fotografare un oggetto nero contro il cielo che è nero? Non sembra facile. In realtà quello che ci permette di vederlo è la materia che il nostro buco nero strappa alle stelle o ai corpi circostanti, tendenzialmente sì, stelle che può anche smembrare e che cadendo verso il buco nero cosa succede? Essendo incaduta sotto una gravità fortissima questo gas perde un'enorme quantità di energia potenziale che si converte in energia termica, come avviene ai corpi che cadono e questo genera un disco di materia a milioni di gradi che emette radiazione in un ampio spettro elettromagnetico nei raggi X tipicamente ma non solo e si vede al centro questa regione oscura che è circondata da questo rischio di accrescimento. Quindi fondamentalmente quello che si vede è l'orizzonte, insomma il famoso orizzonte degli eventi, la regione da cui nulla può scappare diciamo intorno al buco nero. Poi è stata anche fatta appunto una seconda foto che in realtà è molto simile. Viene messa in liquidenza la polarizzazione della luce, viene rappresentata sotto forma di diciamo di increspature, la diversa piana di polarizzazione della luce. Perché è importante? Perché la polarizzazione della luce, la luce è un'onda elettromagnetica, risponde ai campi elettromagnetici presenti all'interno di questo gas, in particolare ai campi magnetici che hanno un ruolo fondamentale in questo gas, questo è il gas fortemente ionizzato, il plasma, i campi magnetici sono fortissimi e tipicamente questo aiuta a capire la struttura magnetica del disco di accrescimento che è molto importante perché sembra che i campi magnetici giochino un ruolo fondamentale nel determinare anche l'espulsione di materia dai buchi neri. Ecco queste sono proprio queste increspature che rappresentano diversi piani di polarizzazione della luce. I campi magnetici diciamo che sono in grado di intrappolare, di lasciare molta energia all'interno di un plasma, sono in grado anche di come dire espellere i getti, i famosi getti ultra relativistici che dalle regioni più interne del disco vengono a volte espulsi nello spazio, ovviamente comunque al di fuori dell'orizzonte perché oltre l'orizzonte nulla può essere più emesso, radiazioni di fotografica a parte diciamo. Quindi è importante per capire questa dinamica ancora non del tutto compresa. Intanto ringrazio Luigi che hai dato proprio un contempismo eccezionale tra tutte le varie immagini. Diciamo che alcune le avevo già preparate prima, non avevo preparato questa dei campi magnetici però, questa qui era quella praticamente storica dell'annuncio della prima fotografia che era stata pubblicata e che fa vedere M87 e i piccoli nei vari riquadri quanto sia piccola diciamo l'immagine del buco nero rispetto ovviamente alla galassia che lo ospite. Certo, certo, assolutamente. Tra l'altro questo è un buco nero di 7 miliardi e mezzo di masse solari e è grande, cioè l'orizzonte di questo buco nero è grande come le orbite dei pianeti, il sistema planetario, il sistema solare diciamo, il sistema solare in realtà se si considera la nube di orte è molto grande ma è grande diciamo poco più del sistema planetario intorno al sole perché si tratta di pochi miliardi di chilometri quindi rispetto a una galassia è un puntino veramente, è stato veramente eccezionale riuscire a vedere l'orizzonte che è estremamente piccolo rispetto alla galassia che tra l'altro è una galassia grandissima. e notiamo anche che per concludere questo discorso sulle galassie direi che si può notare anche che la galassia M87 appunto in generale l'ammasso della Vergine noi non ne facciamo parte, il nostro gruppo locale è un gruppo di diciamo di alcune 50 forse 60 galassie, la maggior parte nane, che si trova a circa poco più di 50 milioni di anni luce dal centro dell'ammasso della Vergine, però sia l'ammasso della Vergine che il gruppo locale, che tanti altri gruppettini di galassie che si vedono in cielo diciamo in primavera sono tutte parte del super ammasso della Vergine che è molto più grande ed è esteso per diciamo oltre 100 milioni di anni luce e il quale poi a sua volta è parte di strutture più grandi ormai diciamo conosciuto super ammasso l'Agnakea o l'Agnakea non so come lo pronunciate diciamo questo termine di origine hawaiana e poi diciamo al centro di questo enorme super ammasso c'è il celebre grande attrattore, un'enorme massa ancora la cui natura è dibattuta e la cui presenza è dovuta diciamo arguita dal fatto che si nota come gli ammassi che fanno parte del super ammasso sembrano muoversi sotto l'azione di una fortissima gravità che in tempi cosmologici naturalmente potrà anche squadernare un po' la forma della zona di universo dove viviamo noi. Questo cosa significa? Significa che quando guardiamo il cielo primaverile e vediamo oltre alle stelle e le costellazioni vicine stiamo guardando verso davvero uno, un grande oltre stiamo guardando verso se consideriamo la nostra zona di universo dietro queste stelle ma proprio in quella direzione ci sono le cose più importanti che influenzeranno anche la vita del gruppo locale della nostra galassia in tempi lunghissimi. Quindi questo forse andando un po' sugli aspetti più cosmologici è il grande fascino del cielo primaverile anche se poi è questione di gusti naturalmente io quelle cose per cui vado pazzo sono le stelle come Roleonis e cosa voglio dire e insomma i suoi gusti diciamo ok. Sono un pochino più vicine anche se le galassie sono importanti perché effettivamente contengono miliardi e miliardi di stelle, ci raccontano un po' l'evoluzione, ci permettono di studiare l'evoluzione di tutte le stelle però le stelle che sono vicine sono qualcosa pur essendo lontane però sono qualcosa di più vicino ai nostri paraggi, ai nostri dintorni forse. Certo, riusciamo anche più a immaginarcele perché il Sole è una stella, riusciamo a immaginare cosa potrebbe voler dire essere in orbita intorno all'altra stella, il grande attrattore è qualcosa che sfugge quasi alla nostra comprensione effettivamente, è così. Questo grande attrattore, molto grande, massiccio, nascosto e lontanissimo, oscuro che sembra che si nasconda come il lupo nella foresta. Quasi paura detto così diciamo. E beh sai, quando si dice questo grande attrattore che non si sa bene cosa sia, che non si vede Certo, assolutamente. Io direi che per concludere vorrei dire ancora una cosa, che è questa, poi lasciamo un po' di spazio per le domande, penso che sia questa. Sì, c'è qualche domanda, la lasciamo per la conclusione semmai, che mi hanno segnalato che sono emerse appunto così dal pubblico. Anzi, se avete delle domande li incoraggiamo, se avete delle curiosità, delle cose che vi vengono in mente, Davide sarà prontissimo. Io direi che volevo appunto, ci sono molti altri miti, costellazioni ancora di cui si potrebbe parlare. Non so, dimmi anche tu Luigi, su base dei tempi, come pensi che forse, diciamo, passiamo già alle domande, andiamo avanti ancora un pochino. Ma direi che rispetto alle altre volte diciamo che siamo giusti nei tempi, ecco. Vediamo un pochino magari qualche domanda del pubblico. Io non so, passerei un attimino alle domande, magari così cogli lo spazio. Magari ci riallacciamo se esce qualche argomento. Qualche tema. Ho bisogno di un minuto finale però. Mi sono ripromesso di condividere una cosa ancora con voi, perché io personalmente appunto chiamo moltissimo gli aspetti anche un po' più mitologici, storici e letterari, anche così. Volevo mostrare un'altra citazione che riguarda le stelle. in particolare abbiamo parlato del Grande Carro. Il Grande Carro si vede sempre, non è troppo circumpolare, ma la stagione, diciamo, la primavera è una stagione in cui lo si vede meglio, ce l'abbiamo veramente altro. Ora condivido un attimo con voi quella che secondo me è la poesia tema celeste più bella in assoluto. Sono tre versi, una poesia un po' più lunga. Mi piaceva concludere così. Eccola qui. È la poesia di Yez. La leggiamo un attimo insomma, ci dice, I have been a hazel tree and they hung the pilot star and the crooked plow among my leaves in times out of mind. Sono stato, lui dice, ci dice Yez, sono stato un albero di nocciolo. Ed essi, la stella del pilota e il carro, perché plow è l'aratro del carro, furono appesi tra le mie fronde per tempi immemorabili. Questa poesia è di una bellezza spaziale, veramente, e la lascio come conclusione della mia chiacchierata, visto che ovviamente solo Yez può dire una cosa così bella delle stelle, e volevo citarla. Ok? Quindi io concludo con queste parole che secondo me meritano proprio, sono meravigliose secondo me. Ok? Allora, adesso lascio la parola a voi, alle domande e agli approfondimenti che eventualmente vogliamo fare. Sì, allora, ce n'è uno un po' più tecniche, alcune un po' più, diciamo, pratiche. Allora, comincerei da questa, chi dice, se si avesse circa mezz'ora per osservare il cielo primaverile al telescopio, cosa consigliereste? Allora, al telescopio mezz'ora io direi. Osservatori novizi. Ok, vabbè, vabbè, tra le galassie direi che quella da non mancare assolutamente è M51, che è una galassia nella costellazione dei cani da caccia, che si trova, diciamo, sotto la coda del mondo. Vai Luigi, vado. Grazie mille, grazie mille Luigi. Andiamo. Perfetto. Così intanto spieghiamo anche le persone come trovarle. Sì, sì. Adesso mi sono, girando, mi sono, ah ok, mi sono perso. Adesso l'abbiamo lì sopra e comunque proprio tra il grande carro e la chioma di Berenice, quindi, insomma, botte, leone, carro lì in mezzo. Ce l'abbiamo praticamente sopra la testa in tarda serata, quindi allo zenith. In questa zona. E la zona è quella. E questa M51 è al telescopio, forse la più bella tra tutte le galassie, la si vede col telescopio, è bellissima perché? Perché è una spirale vista di faccia, cioè non di tre quarti di taglio, si vedono, se il telescopio è di apertura generosa, si vedono, e la notte è molto buia, cielo buio, niente luna, si vedono anche i bracci di spirale, uno dei pochissimi casi in cui si vedono anche i bracci senza usare un telescopio veramente grande, cioè ci vuole comunque 20-25 centimetri, è per vederli, altrimenti si vede più il nucleo, però si intravedono, è bellissima ed è una galassia interagente con un'altra vicina. La galassia vicina è NGC 5195, che è questa che vedete qui, quella più piccolina, si vede anche lei al telescopio. Queste due galassie sono veramente interagenti, sono a 30 milioni di anni luce e si stanno fondendo, o secondo alcuni si sono già avvicinate, come dire, e una è passata vicino all'altra ed è venuta davanti, ma la gravità la sta riattirando indietro, dopo un rimbalzo si fonderanno, quindi forse si sono già parzialmente attraversate e stanno per ritornare indietro, si fonderanno ovviamente non settimana prossima, nei prossimi 100 milioni di anni o 200 insomma, e questo è bellissima come galassia. Ce ne sono altre belle, quindi questa secondo me è speciale. Consiglio anche per il nostro telescopio M81 ed M82 nell'orsa maggiore. Anche queste le abbiamo altissime, la prima si chiama galassia di Bode ed è la galassia più luminosa del cielo dopo Andromeda e Triangolo. È visibile anche in un binocolo, non è lontanissima da una visibilità occhio nudo quasi questa galassia, ed M81, è una spirale. Ed M82 è vicinissima, è un'altra, si pensava irregolare, in realtà spirale anche lei sembra, vista di taglio, ecco la vedete qua sotto, quindi M81 è questa qua al centro. Ed M82 è questa qua di taglio, si chiama galassia Sigaro, perché è un po' questa forma di taglio, ed è una galassia Starburst, cioè attiva, dove c'è un'attivissima formazione stellare. E queste sono 12 milioni di anni luce, sono vicine di casa, sono un altro gruppettino di galassie, tipo il gruppo, c'è il gruppo locale che è il nostro, c'è il gruppo di M81, di cui loro sono i membri più importanti. Quindi io direi che come galassie M81, M82, M51 sono bellissime, poi ci va bene, ce ne sono anche molte altre, il tripletto del leone, ma secondo me queste forse sono le più spettacolari. E poi suggerirei qualche stella doppia, per esempio Algeba nel leone, è una bella doppia, si vede al telescopio due belle stelle arancioni una di fianco all'altra, però poi se sei d'accordo con me Luigi, Izzar forse in bote, che è una doppia colorata, è la doppia più bella della primavera, e se andiamo in bote, sopra Arturo c'è un'altra stella, che è quella proprio che ci appare adesso sulla sinistra, eccola lì, Izzar. Questa stella è una doppia, anche lei, ma colorata, cioè nel caso di Algeba le due componenti sono entrambi arancioni, una gialla e un'arancione, diciamo, Izzar sono una gialla, un'arancione e una bluastra, quindi è una doppia bellissima, è considerata una delle doppie più belle del cielo. Quindi ricapitolando, come galassie suggerisco M51, M81 e M82. Come stelle doppie, Izzar, Algeba, anche Corcaroli, la stella principale dei cani da caccia, una bella doppia, anche lei è abbastanza colorata, e magari ci si può piazzare anche un ammasso, nella nostra mezz'ora ci stanno due doppie, tre galassie e un ammasso, così abbiamo un po', che potrebbe essere ancora il presepe che si vede, eccola qui, grazie, questa è Corcaroli, che è un'altra bella doppia, abbastanza colorata, tra l'altro, è vicina appunto anche a M51, quindi quando il telescopio è in quella direzione si fa presto andarla a vedere. Perfetto, anche Mizzar va bene nell'orsa, nel grande carro, è una doppia famosa, insomma, eccola lì, e forse un ammasso, ecco, magari nel cancro, che si vede ancora di sera, poi tramonta, è vicino al leone, c'è un bel ammasso, che è l'ammasso del presepe M44. Quindi volendo fare un po' di varietà, due o tre galassie, due o tre stelle doppie, anche colorate, e un bel ammasso, l'ammasso del presepe, che si trova qua nel cancro, come vediamo, è quel gruppettino di stelle lì al centro, si vede anche occhio nudo nelle serate più terze, il cancro va poi a tramontare, ma comunque tramonta tardi, tramonta ancora nel cuore della notte in questa stagione, quindi tutta la serata lo si vede benissimo, anzi è anche altissimo, inizia in prima serata, ed è un bel gruppo di stelle, ha circa 600 anni luce da noi, quindi una mezz'ora spesa bene, direi, così, grazie per la domanda, perché facciamo spazio anche ad altre eventualmente. Sì, allora Franco chiede, ma Roleonis non è ancora stata misurata con precisione da Gaia? Allora, il problema di Roleonis, di tante stelle, la cui distanza è poco conosciuta, è che sono troppo luminose per Gaia. Gaia, diciamo, questa è una stella di magnitudine 4 circa, ed è ancora un po' luminosa, in genere tende a saturare, tendono a saturare i sensori di Gaia, quindi, diciamo, proviamo, proverei anche sicuramente a controllare, ma così a occhio direi che tendenzialmente molte stelle famose, per cui c'è veramente bisogno di sapere la distanza, almeno quelle visibili a occhio nudo tendenzialmente molte sono troppo luminose, e quindi credo che non abbia una buona misura su questa stella, perché Gaia funziona bene dalla quinta, sesta magnitudine in su, qualcosa del genere, anche Albireo è un altro esempio famoso, le due componenti di Albireo che tutti si chiedono, mai doppia, ottica, reale, eccetera, probabilmente è ottica, ma non è sicuro, Gaia non ha risolto il mistero, perché le due componenti saturano e la precisione va a picco. Quindi non ho informazioni precise, ma credo che sia assolutamente troppo luminosa per avere una misura precisa. Grazie, grazie. E poi, è vero che stiamo scivolando verso il grande attrattore? Sì, diciamo, l'intero gruppo locale a masso della Vergine, sì, stanno scivolando verso il grande attrattore, dove arriveremo fra qualche, in ordine di grandezza, il miliardo di anni, quindi possiamo stare, o più, è diversi miliardi di anni, possiamo stare tranquilli. E poi ancora, ma i romani non vedevano i sette buoi al pascolo nel grande carro? Certo, assolutamente, grazie per questa domanda. Allora, una cosa molto interessante, perché le sette stelle del grande carro, essendo abbastanza vicine al polo del cielo, che è molto vicino alla famosa stella polare oggi, sembrano girare lentamente intorno al polo, a caso della rotazione terrestre. In realtà, all'epoca dei romani, il polo del cielo, a caso della percezione degli equinozi, era un po' spostato, più vicino al grande carro di quanto sia oggi. Oggi si è allontanato un po'. Quindi, all'epoca dei romani, ancora più che oggi, le sette stelle degli onde carro sembravano girare da vicino, intorno al polo del cielo, e ricordavano quindi, probabilmente, per questa ragione, sette buoi, che, ad esempio, trascinano la mola di un mulino, girando intorno, e sono state chiamate proprio i sette buoi dai romani. Secondo un'interpretazione, sono i sette buoi e boote, cioè la costellazione di boote, che contiene Arturo, è il bovaro, che, diciamo, conduce i sette buoi del cielo. E questi sette buoi, in un'interpretazione un po' mitologica, con il loro moto intorno al cielo, trascinano il cielo, e quindi il cielo ruota a causa del moto impartito dai sette buoi, mentre c'è la rotazione terrestre. Curiosamente, il nome sette buoi, in latino, come si dice, sette si dice septem, e buoi, se si intende animali da tiro, si dice triones, da cui septem triones, che sono i famosi sette buoi, da cui deriva il termine, appunto, settentrione, che in realtà non viene indicato esattamente dal Grande Carro, però all'epoca romana era un po' più vicino alla direzione del nord di quanto sia oggi il Grande Carro, e in maniera più o meno approssimativa, diciamolo, indica. Molto bene, grazie, grazie. Io non vedo altre domande in questo momento, quindi se volevi approfondire un qualche tema sei libero di farlo, se no possiamo chiudere. Allora direi, se tu hai qualche idea, io ho un'ultima curiosità, mito, su qualche costellazione, negli ultimi tre minuti ce lo metterei, però dimmi anche tu Luigi. Ma sì, direi di sì, magari stimoliamo anche qualcosa, qualche altra domanda, qualche altra curiosità, vediamo il nostro pubblico come reagisce. Allora volevo mostrare la costellazione dell'Idra, del corvo e del cratere, che sono un po' meno appariscenti, ma comunque significative, perché se noi guardiamo sotto il leone, vediamo una costellazione in realtà poco appariscente, ma lunghissima, l'Idra. C'è una stella un po' più brillante nell'Idra, che si trova proprio lì sotto regolo, che si chiama Alphard. Un nome di origine alba che significa la solitaria, perché se ne sta solo in una zona di cielo molto povera, una bella stella, una gigante arancione, molto bella, che ha il telescopio per il colore. L'Idra è la costellazione più grande del cielo, perché è lunghissima, non è spessa, ma lunga. E c'è una bella storia mitologica anche sull'Idra. Secondo una versione della mitologia greca è l'Idra di Lerna, che fu uccisa da Ercole, un animale immortale con nove teste, di cui una immortale, Ercole riuscì a tagliare le otto teste mortali e a schiacciare sotto una roccia quella immortale. Ma in ogni caso, secondo un'altra versione, anche più forse curiosa, c'è un bel mito che riguarda l'Idra e le costellazioni del corvo e del cratere, che sono, vedete lì, il corvo. Tra l'altro il corvo è piccolo, ma facilmente riconoscibile, perché è questa specie di trapezino, quadrilatero, abbastanza caratteristico. Il cratere è la stella più debole, difficile da vedere. E questa leggenda dice che un giorno Apollo aveva sete e chiese a un corvo di prendere una tazza, che sarebbe il cratere, e andare a una fonte a raccogliere dell'acqua. Il corvo prese la tazza, si mise in volo, a un certo punto vide un bel albero di fichi. Era piotto di fichi, solo che si mise lì, ma i fichi non erano ancora maturi. E allora si mise lì ad aspettare che maturassero, completamente dimentico del suo dovere era di portare l'acqua ad Apollo. Dopo molto tempo, quando finalmente aveva fatto la sua scorpacciata di fichi, tornò, diciamo, in ritardo, senza acqua dal nostro Apollo, che si arrabbiò moltissimo. E allora il corvo cercò una scusa e disse ma non è colpa mia, è stato un serpente acquatico, che sarebbe l'Idra, il serpente d'acqua, che mi ha impedito l'accesso alla fonte. Io sono andato là con la mia tazza, ma c'era il serpente e non potevo mica rischiare di farmi aggredire dalla serpente e non ho potuto prendere l'acqua per quello. Ovviamente Apollo capì che era una scusa e per punire il corvo lo mise in cielo insieme al cratere e anche al serpente d'acqua, l'Idra, ma mise il corvo un po' spostato rispetto al cratere, così che, pur avendo sete, non può bere l'acqua del cratere, perché è un po' spostato. E notiamo che a causa della rotazione terrestre che in questa particolare prospettiva del cielo fa sì che il cielo si muova da sinistra verso destra, sembra che la tazza scappi e il corvo ne corra dietro senza mai prenderla naturalmente, proprio per questa ragione. E questa è una cosa abbastanza curiosa perché la rotazione terrestre che induce questi movimenti apparenti nelle costellazioni è stata, come dire, interpretata mitologicamente molte volte, nel caso delle sette stelle del grande carro, l'abbiamo visto, qui c'è l'acqua che scappa e il corvo che ne va dietro senza prenderla mai, altri esempi famosi sono Orione che insegue le Pleiadi senza mai raggiungerle, col toro in mezzo, oppure inverno il cane maggiore che insegue la lepre e il cane maggiore e la lepre sono messi esattamente come il corvo e il cratere, una sinistra e una destra, diciamo per così dire, guardando verso sud e uno sembra scappare e l'altro corre di dietro senza mai prenderla e quindi diciamo questi movimenti sono all'origine di leggende anche curiose come queste. Tra l'altro nella costellazione del corvo, concluderei con questo, c'è un bellissimo paio di galassie ma un po' più deboli che richiede un buon telescopio perché sono di undicesima magnitudine nelle antenne. Due altre galassie interagenti tipo M51, quella dei cani da caccia che abbiamo visto prima, ma in una fase di interazione molto più avanzata in cui l'interazione mareale fra le due galassie le ha scompaginate completamente. Erano galassie a spirali che sono diventate due galassie con la forma con due specie di enormi antenne di stelle da cui il nome che si dipartono dai nuclei in fusione. Quindi anche qui, anche questa zona di cielo è ricca di di oggetti extragalattici e qui vediamo la costellazione del Corvo e effettivamente Gena e in arabo vuol dire Ala, l'Ala del Corvo. C'è anche Gena nel Cigno che è l'Ala del Cigno. Ok, va bene. Grazie, grazie mille. Ok. Niente, c'era ancora una domanda che chiedeva delle stelle doppie ma mi sembra che hai già fatto una bella panoramica delle stelle doppie primaverili. Quindi, se ne ricapitoliamo magari, quindi Mizar nel timone del grande carro dell'ossa maggiore che è una doppia molto bella in realtà è multiple ma comunque si vede doppia il telescopio. Eccola lì. Poi Corcaroli nei cani da caccia direi Algeba nel leone e Izar la più bella di tutte in Bote direi che sono quelle da non perdere assolutamente. Certo. Grazie, grazie mille. Bene, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, spero che tornerai a raccontarci un'altra fetta di cielo prossimamente. Prima di chiuderla diretta ricordo ancora tutti l'appuntamento speciale di venerdì 23 aprile sempre alle 9 sempre sugli stessi canali saremo in visita al CERN di Ginevra con il dottore Ezio Torassa che ci parlerà di modello standard e le componenti oscure dell'universo e tra l'altro cioè se riusciamo a risolvere gli evidenti problemi di fuso orario probabilmente ci collegheremo anche con un acceleratore di particelle in Giappone là sarà tipo le 6 del mattino quindi ci vuole qualcuno che sia lì anche se non è sicurissimo il Giappone però il collegamento con il CERN è sicuro perché si fa e quello sì la piattaforma su cui andremo ha 500 posti quindi ditelo ad amici e parenti insomma una visita al CERN anche se in modalità remota così via zoom potrebbe sempre riservarci qualche sorpresa interessante bene a questo punto saluto tutti ringrazio Davide ringrazio Sandra Alessandra Letizia Andrea Roberto tutti quelli che hanno dato modo di realizzare questa serata ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e seguito e alla prossima ci vediamo il 23 aprile e poi adesso noi chiudiamo la diretta chi vuol restare con zoom faremo qualche saluto così internos ciao a tutti ciao a tutti